ultima giornata di lavoro in ufficio giusto eleonora con questa fantastica ripresa che è una rama molto sempre mio ecco le mtv crips dell'ufficio ragazzi benvenuti ragazzi prego eccoci qua prima attrazione abbiamo un 55 anni in musica di orienta bello questo è dannata macchinetta del caffè macchinetta del caffè discreto discreto e qui avviene la magia qui è dove nasce delle cose sapete perché qua avviene la magia perché il materiale umano è quello che conta il cane silvio di fedet si diverte nella stanzetta dei piccoli leone vittoria scivolando qua e la congioia dopo silvio si incammina verso lo studio di registrazione un tempo una chiesa sconsacrata ora trasformata in uno spazio creativo dove fedez lavora i suoi progetti musicali con grande entusiasmo fedez mostra il processo di sistemazione dello studio un luogo dove le sue idee prendono vita qui nascono i suoi progetti che condivide poi sui social media con i suoi fan ogni nuova creazione è un'occasione per celebrare e l'atmosfera è sempre carica di energia ed edizione fedez e il suo team si dedicano un applauso soddisfatti del lavoro svolto e pronti a condividere nuove emozioni con il loro pubblico e qui avviene la magia qui è dove nasce delle cose sapete perché qua avviene la magia